Buon inizio, per cui andrei a fare un piccolissimo marge insieme a Stefani al primo pianista moderno, quello che ha deciso che il pianoforte non doveva essere solo uno strumento di musica classica, ma anche di quella musica che sarebbe diventata blues e all'epoca si chiamava Ragtime, Jelly Roll Morton. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.